Con grande gioia che porto il mio saluto personale e quello dell'intero Governo, non solo del Ministero della Difesa, a tutte voi e a tutti voi, faccio i complimenti agli allievi che sono stati premiati, faccio i complimenti e il grande in bocca al lupo a chi si accinge a vivere qui e altrove uno straordinario anno all'insegna della curiosità, del domandarsi il perché delle cose, all'insegna dello studio, della passione, dell'approfondimento. Sarà un anno sicuramente ricco di sfide, di difficoltà, avete la fortuna di poter contare su un corpo docente di grande livello, su insegnanti e direi maestri, noi abbiamo molto bisogno di maestri, questo è un tempo nel quale l'esperienza della figura del maestro sembra quasi messa in discussione, ciascuno pensa di poter offrire una verità anche parziale e distorta, abbiamo bisogno di recuperare la funzione vera che riguarda naturalmente il corpo docente, da un lato saluto il magnifico Rettore e il Presidente della Crui e saluto tutti i docenti che lavoreranno in questo anno al vostro fianco ma che riguarda anche la figura dei vostri superiori che hanno una grande responsabilità nei vostri confronti, indicarvi una strada sulla quale naturalmente misurarvi, sulla quale cercare di fare meglio perché poi il compito dell'allievo è quello di sorpassare il maestro, un grande come Leonardo da Vinci diceva tristo al discepol che non sorpassa il suo maestro e se lo diceva Leonardo da Vinci che è forse una delle figure più geniali che l'Italia e il mondo abbiano conosciuto è evidente che questo debba riguardare ciascuno di noi. Il compito è quello di fare meglio, certo, ma il compito di chi si accinge a vivere un anno come il vostro anno accademico è quello di dare tutto, fare del proprio meglio. È una sfida difficile questa, non vi è alcun dubbio, ma è una sfida che è ampiamente alla vostra portata. Lo dico perché dopo un periodo di due anni e mezzo alla guida del Governo ho avuto modo di conoscere, venendo dall'esterno, la qualità, la professionalità, lo straordinario rigore delle donne e degli uomini delle Forze Armate italiane. Posso dirlo io che avevo affrontato il tema della difesa delle Forze Armate senza una particolare esperienza precedente, non venivo dalla Commissione difesa o dal Parlamento, sindaco di una città importante che peraltro con l'Aeronautica ha un rapporto particolare a partire dalla due, ma non avevo mai colto fino in fondo, se non nell'attuale ruolo di responsabilità, che rivesto quanto sia grande e forte il senso di appartenenza e di orgoglio che i vostri straordinari ufficiali e le vostre straordinarie presenze a tutti i livelli stanno dimostrando in tutto il mondo. Di questo vorrei rendervi onore e rendervi grazie. È uno degli elementi che fa dell'Italia un Paese di cui essere orgogliosi. Non è l'unico, non è il solo, ma è uno di quelli per cui quando si va agli incontri internazionali si ha la possibilità di guardare a testa alta gli interlocutori spiegando che noi siamo l'Italia. E questo fa giustizia di tante polemiche assurde, di tante sterili e vacue considerazioni che sono state espresse e che vengono espresse talvolta dal pensiero dominante nel nostro Paese. Siamo sempre in mezzo a polemiche, a discussioni. C'è sempre qualcuno che dice sì, però dalle altre parti fanno meglio di noi. Si fatica a riconoscere quanto grande sia la professionalità non solo in questo settore, ma anche in questo settore delle donne e degli uomini che servono il nostro Paese. Ecco perché il nostro obiettivo è quello di insistere e valorizzare moltissimo il senso dell'appartenenza. Noi viviamo un tempo in cui sembra che valga solo l'apparenza più che l'appartenenza, che valga il modo con il quale ci si presenta e non con il quale si è. È fondamentale ovviamente presentarsi bene, ma l'appartenenza è un concetto più ampio dell'apparenza. E voi siete davvero la nostra squadra che vola. Lo siete e ne siamo orgogliosi nel lavoro prezioso che svolgete per garantire la sicurezza nei cieli con la vostra uniforme. Lo siete quando, in modo straordinariamente efficace e puntuale, salvate vite con i trasporti sanitari d'urgenza. Lo siete all'avanguardia nella gestione di partite e sfide difficilissime. Penso dall'aerospazio fino alla gestione quotidiana dei nostri cieli, ma quando sulla ricerca e sulla ricerca aerospaziale vediamo che l'Italia non è un fanalino di coda, ma è il punto di riferimento a livello europeo delle sfide più intriganti, anche grazie a voi, anche grazie alle donne e agli uomini che ciascuno di voi è, si sente crescere un sentimento di orgoglio che è particolarmente importante. E siamo orgogliosi anche, lo abbiamo dimostrato qualche giorno fa, il 4 novembre, quando le frecce tricolori hanno disegnato un immenso tricolore sopra i luoghi simbolo della nostra patria, una gente, una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di cor. Sono le parole di Alessandro Manzoni nel marzo 1821, ma quel tricolore ha dato a tutti noi il senso di una appartenenza. Allieve ed allievi dell'anno 2016-2017, si può ancora credere al senso di comunità oggi, nel tempo in cui i social network giocano a dividere, ad alimentare le tensioni, a sottolineare soltanto ciò che non va? Si può ancora credere all'appartenenza di una comunità nazionale quando il mondo vive una globalizzazione che ha molti aspetti positivi, ma che rischia di portare a un'omologazione culturale particolarmente pericolosa nella stagione che stiamo vivendo. Si può ancora credere al senso di comunità in una stagione della vita in cui, quando atterrate in una qualsiasi città del mondo, i negozi del centro storico sono tutti gli stessi, identici anche nei dettagli. Io penso che tenere insieme la parola identità e innovazione sia una delle sfide più belle e più affascinanti per le forze armate italiane, perché noi siamo profondamente gelosi della nostra identità. Ho citato Manzoni in marzo 1821. La nostra identità è la letteratura, è la cultura, è la bellezza di un panorama, è la bellezza dei nostri prodotti agroalimentari, è la qualità delle relazioni di vita. È un Paese che ha 4,9 milioni di volontari, alcuni dei quali sono qui, perché tolta l'uniforme si indossa la vita quotidiana ma si continua a cercare di praticare e di costruire elementi di comunità. Eppure noi pensiamo che la nostra identità così bella e alla quale siamo gelosamente affezionati debba essere lanciata nel futuro. Il mondo ha molto bisogno dell'Italia, bisogna farla finita con l'atteggiamento rinunciatario per cui l'Italia va in Europa a dire ce lo chiede l'Europa. Smettiamo di dire che cosa ci chiede l'Europa, iniziamo a dire che cosa vogliamo dire e dare noi all'Europa, a partire dai temi, certo, della difesa comune che non noi ma altri Paesi hanno evocato per poi bloccare fin dagli anni Cinquanta, che non noi ma altri Paesi hanno puntualmente richiamato, salvo poi non fare niente concretamente perché venisse realizzata. L'Italia c'è con tutto il suo entusiasmo, con tutta la sua forza, con tutto il suo coraggio, con tutta la sua competenza e voi siete un pezzo di questo ragionamento. Voi non siete soltanto allievi e allievi dell'anno accademico 2016-2017, voi siete responsabili di una comunità nazionale il cui tempo non è il passato ma è il futuro. È questo che stiamo cercando di fare. Eh beh, voi però avete responsabilità di governo, dovete realizzare le cose concrete. È vero. La Ministra Pinotti ha sottolineato alcuni degli impegni, a partire dallo sblocco, era l'ora, di tutte le vertenze che erano ferme da anni. Il riconoscimento di un servizio che non è stato fatto in passato ma che noi intendiamo finalmente portare tra l'elenco delle cose realizzate di cui non si parla più, per poi ragionare di innovazione, di come continuare ad andare avanti. Quello però che è per me cruciale è darvi e dirvi il senso di una possibilità. Io penso che l'Italia sia il luogo delle possibilità. Se voi guardate la storia dei pionieri dell'aeronautica, trovate delle storie meravigliose, di gente che ce l'ha fatta. L'Italia è anche il loro paese, il paese di gente che ce l'ha fatta. Ma io vorrei che l'Italia fosse sempre di più il paese di gente che ci vuole provare, che si vuole sperimentare, che vuole provare l'ebrezza e la vertigine, lo dico a chi è abituato a volare ad alta quota, di sentire grande la storia del proprio passato ma di avere nel cuore il desiderio di scrivere una storia altrettanto importante. E io da capo del Governo protempore sono qui a chiedervi questo, di non accontentarvi mai, di non rassegnarvi mai, di non rannicchiarvi mai, di non ridurre mai il raggio d'azione del vostro volo. Siate capaci di vedere la responsabilità che il paese vi chiama ad esercitare. È una responsabilità che non è soltanto vostra. Io mi permetterete una citazione non dotta, mi scuseranno i signori generali, ma tanto un po' ormai mi conoscono. Considero uno dei libri più belli, un libro di un aviatore che è passato alla storia per il Piccolo Principe, ma che ha scritto libri molto più belli del Piccolo Principe. Volo di notte sicuramente per chi è abituato a conoscere la vostra professione. Ma nel mio caso uno dei libri più belli di Antoine de Saint-Exupéry è Terra degli Uomini. Terra degli Uomini si apre con un messaggio in cui l'aviatore, che è un grande scrittore, che è un grande uomo di cultura, scrive ho sempre davanti agli occhi l'immagine della mia prima notte di volo in Argentina, una notte buia in cui a scintillare come stelle erano soltanto le rari luci sparse nella pianura. Ciascuna di esse segnalava, nell'oceano di tenebre, il miracolo di una coscienza. In quella casa qualcuno leggeva, qualcuno pensava, scambiava delle confidenze. Nell'altra forse qualcuno cercava di esplorare lo spazio facendo dei calcoli sulla nebulosa di Andromeda. Ma in mezzo a quelle stelle vive quante finestre sbarrate, quante stelle spente, quanti uomini addormentati. E scrive bisogna pur tentare di ritrovarsi, bisogna cercare di comunicare con alcune di quelle luci che risplendono qua e là nella campagna. In questo senso l'esperienza dell'aviatore dall'alto è la stessa esperienza dell'uomo delle istituzioni. Luci meravigliose che si accendono. L'Italia è così, è piena di opportunità bellissime e però contemporaneamente quante finestre sbarrate, quante stelle spente. Compito dell'aviatore è sapersi orientare e saper garantire la sicurezza. Compito dell'uomo delle istituzioni è saper mettere in comunicazione le stelle non spente, per utilizzare le espressioni di Saint-Exupéry. Ma il vostro compito in questo libro è segnato da un altro aviatore, Guillaume. È un uomo che viaggia tra le ande aeropostale, il cui aereo improvvisamente crolla. Dice, bravo Presidente, sei venuto a farci una bella introduzione. Ma nel momento in cui l'aereo ha un problema e tutti i compagni pensano che l'aviatore sia finito, sia morto, non abbia più chance, quell'uomo, Guillaume, dice una cosa semplice. Dice, se mia moglie mi crede vivo, mi crede in cammino. Se i miei amici mi credono vivo, mi credono in cammino. E allora si rimette a camminare e riesce a salvarsi nonostante che tutti gli altri avessero pensato che ormai la partita era finita e che lui non aveva più chance. Perché vi dico questo e chiudo? Perché il pezzo di Saint-Exupéry che si relaziona a Guillaume dice questo. La sua vera qualità non è il coraggio. La sua grandezza è di sentirsi responsabile. Responsabile di sé, responsabile del corriere, responsabile dei compagni che sperano. Egli tiene nelle sue mani la loro sofferenza e la loro gioia. Responsabile di ciò che laggiù nel mondo dei vivi si costruisce di nuovo, a cui anche egli deve cooperare. Essere uomo vuol dire precisamente essere responsabile. Vuol dire conoscere la vergogna di fronte a una miseria che non sembra dipendere da noi. Vuol dire essere fiero di una vittoria riportata dai compagni. Vuol dire che posando la propria pietra si contribuisce a costruire il mondo. Allieve ed allievi dell'anno accademico 2016-2017, avrete molto da fare. L'Italia crede nella sua aeronautica. L'Italia crede nella vostra professionalità. L'Italia vuole invitarvi a fare il meglio. Avrete dei momenti di difficoltà. Avrete dei momenti in cui le cose non saranno andate come avreste immaginato. Sentitevi però in ogni circostanza responsabili. Noi viviamo oggi un tempo in cui l'Italia è impegnata praticamente ovunque. In Libia è impegnata negli scenari internazionali difficili. È impegnata sulla cyber security, settore nel quale si misurano nuove sfide e nuove difficoltà. Ma la nostra forza, la forza della quale siamo assolutamente certi, è il fatto che abbiamo donne e uomini responsabili delle proprie felicità, certo, ma dei propri compagni, della propria curiosità, della propria passione. Vi auguro dal profondo del cuore di essere all'altezza delle sfide del passato e di avere fame, di avere voglia di essere meglio del passato, di essere migliori del passato, di non accontentarvi mai e di aiutarci a far sì che questo Paese renda l'Europa un luogo più solido e più giusto e il mondo un luogo più civile. Viva l'Aeronautica, viva le Forze Armate, viva l'Italia.